Manca poco più di un mese dall'appuntamento di Cagliari dove la CEI ha convocato la Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. Il tema centrale sarà il lavoro. A livello di diocesi veronese, cosa è stato fatto in questo periodo di preparazione a questo appuntamento in terra di Sardegna? Oggi sta cambiando completamente il lavoro, sta cambiando il rapporto dei lavoratori tra di loro con le istituzioni. Sta cambiando il mondo, quindi deve cambiare anche l'approccio a questa tematica. Credo che la cosa più importante, quella sulla quale ci siamo più concentrati, sia proprio la formazione. A Verona abbiamo organizzato un'equip, una delegazione, che parteciperà a questi lavori, formata da sottoscritto in quanto direttore dell'Ufficio della Pastrone Sociale. Poi ci sarà la presenza del delegato diocesano per la dottrina sociale della Chiesa, Don Renzo Beghini. Poi ci sarà un docente universitario. E poi abbiamo deciso anche di chiedere la partecipazione a un giovane, per avere anche, come dire, l'espressione di coloro che si affacciano a questo mondo con tanta speranza, con tanta voglia, ma anche con qualche dubbio. Con la diocesi di Verona, nelle sue varie rappresentanze, nelle sue varie attività, nei suoi vari organismi, sarà presente anche, per esempio, con la Fondazione Toniolo, che ha sempre un occhio molto attento e molto vigile su questo aspetto della vita dell'uomo. E' interessante, secondo me, è stata la proposta, l'attività svolta da Don Renzo Beghini, un corso organizzato presso l'Università in collaborazione con la Facoltà di Economia, sull'etica dell'economia. Questo non per mettere un cappello cristiano sopra la scienza, ma proprio per capire come etica ed economia devono essere due sorelle oppure due gambe della stessa persona devono andare insieme. Perché non ci sono leggi, non ci sono regole che possano risolvere i problemi se non c'è una maturazione, se non c'è una consapevolezza, una responsabilità che la persona interiorizza attraverso la conoscenza, la formazione e lo studio. C'è troppa economia, intesa come studio e poca etica, applicata nel mondo del lavoro. L'obiettivo delle Stigioni di Cagliari è anche quello di poter riportare l'uomo al centro dell'attenzione. Ecco, credo che l'apporto della Chiesa, da questo punto di vista, con la sua tradizione, con il suo bagaglio dottrinale, che non è un peso da trascinarsi dietro, ma è un'opportunità, possa offrire anche oggi nuovi spunti, nuovi traguardi da raggiungere e prospettive che siano veramente nella linea di rendere il lavoro umano. Noi non sappiamo se tra qualche anno non esisterà più il lavoro perché, per esempio, faranno tutti i robot. E noi cosa faremo? La nostra identità? Da che cosa sarà determinata? Se non è più il lavoro che ti dice, che ti insegna chi sei, che cosa fai, che cosa sei capace di fare. Ecco, questi sono temi a cui non c'è una risposta immediata, ma sono argomenti da affrontare, da studiare, da approfondire. E credo che comunque, per l'uomo, il lavoro sia una dimensione fondamentale. Grazie a tutti.